No, sicuramente moriremo, però... Aspetta un attimo, mettiamo l'accampamento, va... Tanto... Non si può... Ma no, io metto l'accampabraccio! Eh, sì, ma mi sa che mi manca la siccia... No, ma forse sono io, ma non si può fare qui... L'accampamento è limitato nei punti di riferimento, ma... Quindi niente, dobbiamo entrare dentro... Quindi non moriamo... Eh, vediamo, aspetta... Eccoli, eccoli, te l'avevo detto che erano lì! Dove sono? I tutti dentro, sono morti due! Oh, su... Quanta quanti sono? Buonissimo, amico! Morti 3! C'è uno vivo! Sono in fondo, lo vedo! Sì sì, non sono in coraggio! Ah, sì! Ma adesso non c'è solo, non sono in coraggio! Ha mortato un altro, ha marciato! Ha buttato un accoraggio! cazzo dai che lo prendi dai che lo prendi lo sto riferendo a chi l'ho preso con l'accetta vabbè anche capace vabbè boh boh ma quanti celli c'erano io sono entrato dentro ho colpito però dentro ce l'abbiamo fatta cazzo poi c'era anche il portale l'ho usato su un 3-8 vai su un 82 eh ecco è sotto è sotto scappato vai lo scappare verso qui a me mi salto mi vado in panico perché mi salto è scappato è scappato qua che mutana mi ha scappato lo stunno eh lo sto cercando di andare a stunnare lo sto cercando di andare a stunnare va lo stunnato dai ah oh 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 Lì dentro... secondo me lì dentro...